Allora Alessio, prima partita della stagione, prima di Coppa Italia, finita 12 a 1 per la Icnos, tanti gol, tante emozioni, tra il gol c'è anche uno che porta la tua firma, come ci si sente e come hai visto la partita? Allora, sono state tre settimane di bellissimo lavoro che hanno portato i loro frutti e l'abbiamo dimostrato sul campo, abbiamo una squadra molto coesa e vogliamo fare buoni risultati, questo è il primo passo di quello che sarà, un lungo percorso che ovviamente desideriamo sia il migliore possibile. Prossima settimana c'è il derby, il 28, a casa della Fanni, siete pronti per affrontare una delle partite più due della stagione? Sì, abbiamo finito questo primo passo e siamo già concentrati su quello che sarà il nostro secondo, quindi lavoreremo durissimo in settimana, come abbiamo fatto finora, anche lì daremo il meglio. Allora diamo appuntamento il 28 per la partita Fanni contro Icnos, qui su Icnos TV.